Il Consiglio Comunale, convocato oggi, prevedeva la discussione di importanti punti all'ordine del giorno, quali la variazione al bilancio di previsione 2016 in termini di competenze in cassa, ma gli scogli di natura politica costringono a rimandare la discussione alla seconda convocazione, quella di martedì 2 agosto alle ore 9, diversi gli assenti nei banchi di maggioranza e di opposizione, in alcuni casi giustificate da motivi personali. Ma veniamo alla fredda cronaca della seduta, che comincia con una comunicazione ufficiosa del Presidente dell'Assemblea, Tortorelli. Chiedo ai capigruppo di fermarsi dopo la seduta per concordare il prossimo Consiglio prima della pausa estiva, che avverrà dal 9 al 21 di agosto. All'appello, chiamato prima del minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia ferroviaria pugliese, mancano i consiglieri Lapolla, Rubino, Buccico, i due Antezza, uno di maggioranza, l'altra di opposizione, l'Episcopia, Scarola, Iacovone, Antonio, Alba e Mater Domini. Prende la parola il capogruppo del PD, Salvatore Adduce, per rassicurare. Abbiamo depositato la richiesta sulla discussione che chiamiamo, con la parola di uso comune, crisi di maggioranza dei Ruggeri, ma non abbiamo intenzione di fare ostruzionismo, soprattutto in considerazione della necessità di procedere sull'ordine del giorno. Certo, ha sottolineato, non potremo non fare valutazioni in corso d'opera, quindi, pur potendo agire diversamente, consentiremo di far svolgere, almeno all'inizio, il Consiglio Comunale. Ad Adduce risponde De Ruggeri. Devo solo precisare, dice il Sindaco, che venerdì sera c'è stata una riunione della maggioranza e, comunica ai presenti, al di là delle soffiate esterne, anche di tipo giornalistico, si è deciso di dare una conferma all'adesione gestionale e politica, oltre che per la rimodulazione della Giunta Comunale. Dunque, segnali di guerra per De Ruggeri non ce ne sono, non ce ne sarebbero. Ci sono solo, per il Sindaco, situazioni legate a impegni personali o di tipo stagionale che creano condizioni di qualche assenza e cita come esempi il consigliere Buccico, impegnato fuori Matera, e l'Episcopia a Cracovia con il volontariato cattolico. Al voto viene dunque decisa maggioranza la sospensione e l'aggiornamento dei lavori in seconda convocazione.